allora ragazzi oggi facciamo un po' particolare sapere tutti quanti quello che è accaduto un saluto prima di cominciare questa recensione al grande richard benson che è stato uno dei più grandi se non il più grande critico musicale italiano e non solo lo conosciamo tutti quanti ha fatto delle cose enormi qui a roma comunque un saluto ovunque tu sia richard fatta questa premessa oggi abbiamo ascoltato questa nuova edizione 180 grammi al speed mastering del primo album degli sapete benissimo cosa pensiamo noi di questo tipo di registrazione il 90 per cento sono mediocri il 10 per cento sono fantastici questo fa parte del 10 per cento suona veramente 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 bene pulizia di suono indescrivibile si sente tutto nei minimi particolari un grandissimo remastering che hanno curato all'ebriod studios john hessley e miles show well e dulcis in fondo come è capitato con il disco del genesis records out anche in questo venile c'è certificato di garanzia certificato di masterizzazione dell'album voto beh voto artistico mi rifiuto di darlo perché voi sapete benissimo di quale valore storico abbia questo disco grandissimi voto tecnico 9,5 9,5 di quelli che abbiamo sentito è sicuramente fra le migliori edizioni mai stampate di questo autentico capo lavoro straconsigliato da me e da te 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 metto un mezzo eh posso mettere in mezzo ok va bene chiaramente non Trumpia Trumpia Policanosigliato Trumpia Sippon Trumpia anche